Buon pomeriggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione in diretta di Udinews TV in apertura. Torniamo allora verso Udine, ma non di molto, ci fermiamo a Gemona dove c'è in collegamento esterno la nostra Alice Mattelloni che questo pomeriggio vuole svelarci qualche segreto da chef. Buonasera Alice, ben ritrovata. Buonasera Valentina, ben trovata e ben trovata a tutti i nostri telespettatori. Sì, quest'oggi mi trovo a Gemona, vi voglio svelare qualche segreto da chef, io che sono un'appassionata di cucina oggi sono effettivamente in buona compagnia perché mi trovo con l'associazione Cuochi Udine che è una realtà che davvero porta il Friuli Venezia Giulia a essere conosciuto non solo in Italia ma anche al di fuori dei confini nazionali con tantissimi risultati. Allora mi trovo con il presidente provinciale dell'associazione, con il vicepresidente regionale e poi con un altro chef, perdonami Davide non so qual è l'incarico, però che ci farà vedere appunto un piatto. Ma partiamo subito con il nostro Antonio per parlare di questa associazione, un'associazione che si è rinnovata nel suo direttivo ma ha una bella storia. Sì, infatti è un'associazione presente nel territorio da più di 20 anni, rappresenta la nazionale italiana sul territorio, quest'anno è stato un anno ricco di risultati partendo già da novembre con i campionati mondiali in Lussemburgo, per arrivare poi Streetful da Riva del Gardo conquistando una medaglia d'argento, per poi passare ai campionati italiani dove hanno conquistato più medaglie, partire dalla medaglia d'oro, una mystery box, argento e bronzo nelle competizioni sia calda che competizione fredda. Ecco, quindi sono tantissimi i risultati che hanno ottenuto questi ragazzi di tutte le età, ragazzi che sono accomunati sia dalla passione ma anche appunto ragazzi che hanno fatto la scuola alberghiera. Sì, esatto, come hai detto tu è una realtà che accomuna un po' tutti, soprattutto i giovani, ritornando su Davide che è lui responsabile del comparto giovane, dalla forte collaborazione con gli studi alberghieri molto presenti in zona. Senti, quali sono i prossimi obiettivi e le prossime sfide? Un po' i risultati ce ne hai parlato, dei risultati, ma chiaramente il percorso e la vostra strada è lunga e ci sono tanti obiettivi. Sì, quella più importante è sicuramente la manifestazione internazionale che esiterà in Cina ad inverno, a novembre precisamente. Senti, qual è il vostro piatto forte che vi caratterizza? Un piatto che ha avuto molto successo nell'ultima gara è stata la nostra anguilla, cotta a bassa temperatura, accompagnata con della bosega, che è un pesce tipico qui della zona lagunare, servito in due consistenze sia tartare che mantecato. Quindi, questo è il vostro piatto forte, ma sicuramente un piatto forte è anche quello che ci sta preparando Davide, che appunto mentre noi realizzavamo l'intervista si è messo a impiattare questo splendido dolce che è Davide, spiegaci un po'. Un semifreddo al tirami su. Beh, direi che Valentina, noi vi abbiamo fatto conoscere questa realtà dell'associazione Cuochi Udine, ti restituisco la linea e io mi assaggio questo buonissimo dolce. Buon appetito, buon appetito Alice, in bocca al lupo ai cuochi che ti circondano per le prossime competizioni, tenere alta la bandiera delle Friuli. Sì, adesso noi parliamo di...